Buongiorno a tutti, sono Luigi Nanaku con la febbre, influenzato, mezzo morto e benvenuti a questo nuovo video. Ho provato a caricare video vecchi perché non sono in una condizione fisica fantastica però. Qua inizia uscire troppa roba, poi rischio di andare indietro, già sono indietro con un paio di rubriche, quindi figuriamoci se aspetto ancora. Almeno oggi e domani dovrò sforzarmi a fare il video. Allora, domani affrontiamo la batch dei Golden Freezer. Oggi invece affrontiamo l'analisi dei nuovi Rebirth leak che abbiamo. Ieri sono stati leakati, anche grazie al download dati, tre nuovi PG, Rebirth di tre vecchi PG. Andiamo ad affrontare il primo PG, tutti e tre sono festeggiamento per i due anni, infatti fanno il segno della vittoria con le dita che indica i due anni di gioco. Goku Kid fisico SSR, evoluzione del Goku Kid che potete farmare con 150 stamina, penso. Giù di quanto stavo dovete prendere 10 copie nell'evento a stamina 12, che potete trovare anche adesso sul JAP fino tipo a domani. 6658 di HP per 6836 d'attacco e 3926 di difesa per un PG a costo 16 con chi metter 300, 1225%. Leader skill HP più 50% a tutti, passiva attacco più 40%. Ragazzi c'è poco da dire, questo è un PG promozionale più che altro, non è chissà cosa, non è neanche tanto utile. La sua unica utilità a mio avviso l'abbiamo nei confronti dell'evento del coniglio. Con sto PG lo sfondate molto 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 male, lo eliminate davvero facilmente. Posso citarlo un attimo prima, non mi sarei rotto le scatole a farmare quelle 154 medaglie. Però, PG carino per quell'evento, fuori da quello, dubito serva. Riguardo i link purtroppo non sono uscite traduzioni, però, però, direi di potervele trovare in quanto tutti e tre i PG hanno come link che gli stessi delle loro versioni antecedenti, soltanto che al massimo ne perdono uno. Quindi un secondo solo che vi riesco a dire immediatamente, appena vedo dove cavolo è quel Goku, il link, eccolo qua. Allora, in sto caso lui non guadagna link, abbiamo Innocence, All in the Family, Third of School, Incredible Adventure e Guidance of the Dragon Ball. PG davvero scarso, però dai, per gli inizi, data che faccio da farmare, vi ricordo che a SA10 io aumento ulteriormente i danni, oppure lancia la special con meno chi, non ricordo, penso che aumenti i danni. La speciale SA1 è 220% per 18k e SA10 è 355% per 30k. Senza infamia e senza lode, siamo sinceri. Non è un PG che, se non farmate, ne sentite la mancanza, però, magari potrebbe tornarvi utile. Secondo PG è il Goku Anniversario Tour, è la versione, è la versione a tour del vecchio Goku Anniversario, quello che, scusate un attimo, sono in condizioni abbastanza pietose, del vecchio Goku Anniversario, quello che ottenivate proprio l'anniversario. Dato che pochissimi probabilmente di voi lo avranno, tra l'erolo altro, in generale, magari alcuni li ha dato con quelle R, come ho fatto io, è probabile che si potrà comprare all'interno del Babo Shop con le monete secondo anniversario. Verso la fine del video, comunque vi dico anche quali sono le novità che sono viste ieri col download. Allora, Goku Tech Super Saiyan 2 Tour 7650 ad HP per 7041 attacco e 4113 di difesa. Costo di 29, chi metter 300 di 130% per un PG molto nella norma. Ah sì, per evolvere il Goku Kid avrete bisogno di due medaglie di Bulma e della Tartaruga. Per evolvere questo PG, se non erro, avrete bisogno di due medaglie di Goku Super Saiyan 2. Quindi, abbastanza easy. Leader Skill con più del 30% di HP più 2 ki e 20% attacco di difesa a tutti. Abbastanza inutile. Passiva con più del 50% di HP più 2 ki a tutti, attacco più 20%. Qua c'è una virgola, però penso che sia attacco più 20% a tutti. Quindi, non male, come Buffer è un PG che ha un suo perché, però in un Team Tech trova abbastanza poco spazio. In un Team Tech free to play, ora che è Super Saiyan 2, quindi può essere giocato insieme a Goku e l'Air, potrebbe avere un senso. E-Link, Golden Warrior, Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Kamehameha, Zeta Fighter e Rebirth. Quindi, nei Link non è malaccio. Special, facilmente farmabile tramite Goku, Super Saiyan dell'eventola... Non mi ricordo neanche come si chiama da questo messo. Comunque, facilmente farmabile, parte a S1 220%, fino a S10 355% per un 20K S1 e 32K S10. Niente di eccezionale anche qua, però è già un miglioramento, più che come DPS vero e proprio, lo vedo bene come supporter per quel 20% d'attacco e quei 2 ki. Può essere carino e facilissimo da avere, quindi non buttiamo. Però, ora passiamo alle cose belle. Abbiamo aspettato un anno. No, in realtà abbiamo aspettato da quando è uscito Gotenks Super Saiyan 3, questo momento. Molti di noi, quando è uscito Gotenks Super Saiyan 3, era la carta che volevano andasse a Tour. Ci sono rimasti molto male che non sia andata, ma abbiamo avuto quello che volevamo. Ovvero, finalmente, Gotenks fisico Super Saiyan va a Tour. Si evolverà tramite 35 medaglie di Gotenks Super Saiyan 3. Quindi, primo caso di un Tour che esce successivamente all'uscita del 50 stamina che si vuole con quelle medaglie. Cosa interessante. Potrebbe essere ripetuto. Beh, alla fine Gotenks Super Saiyan era un PG promozionale del primo anniversario. Anche se il vero PG di quella baccia era Gianemba, però, stava insieme a Gogeta. Per un PG davvero buono abbiamo 8.947 d'HP per 8.120 d'attacco e 4.724 di difesa. Non chissà che aumenti rispetto alla versione SSR, ma non è male. Costo di 42 per un keymeter, 3, 100, 12, 135%, che è presso a poco la stessa identica cosa che avevamo nella versione SSR, ma infatti i moltiplicatori non cambiano. Quello che cambia è naturalmente, per fortuna, la leader e la passiva. L'idea skill diventa un ottimo key più 3. Non male l'evento di Gotenks è fattibile free to play abbastanza facilmente se avete Goku LR. Difficilmente lo useremo, ma può essere un'alternativa in alcuni eventi come leader. O è, nel caso peggiore, in team fisico in mancanza di meglio. Puoi essere un leader carino con un amico Broly. La passiva è quella che ottiene il boost più interessante. Ovvero più 100% attacco al lancio della special. La stessa di Goku Blue. Scusate. La stessa di Goku Blue. Abbiamo quindi davanti un PG che sulla carta non è che può fare danni alti, ma ragazzi, sulla carta fa danni alti. Adesso vi cerco di dire più o meno a che livello di danno siamo. Però con 8120 d'attacco in un team doppio Trunksint o doppio Broly. Quindi facciamo un bel team abbastanza grosso. In cui link al meglio i suoi link sono... Dove siete? Golden Warrior, Super Saiyan, Prepare for Battle, Innocence, Fuse Fighter, Saiyan Lineage e Super First Battle. Per fortuna. Super First Battle. Ora, non mettiamo il caso limite in cui linki anche con Goten Super Saiyan 3, quindi si becchi anche il 10% d'aumento di Gotenx. Ma fermiamoci al caso in cui si becchi soltanto Fuse Battle e Super Saiyan, quindi un 1.25%. Abbiamo poi il Key Meter, come ho detto, di un buon 135 che schifo non fa. Abbiamo quindi la sua passiva che lo dà di 2. E poi abbiamo la Special che parte SA1, 250% per 27k, fino a SA10, 403% per 47k. Più o meno come quella della sua versione SSR. Ottiene però un buon valore d'attacco di 282.819 a SA10. La sua SA non è troppo difficile da farmare, ragazzi. Basta avere una decina tra Goten, Tech e Trunksint. Portarveli a SSR Gotenx, portarli a OR e dargli da mangiare. È lunga, ok. Però è fattibile, 282k d'attacco. Non sono questi valori esagerati. Però voglio dire, un 400.000 a un int. Ora, non sarà facilissimo da portare SA10 come è stato per Goku Blue, ma ne vale la pena. Un PG davvero buono. Staple per me è un PG obbligatorio in team fisico. E anche in team super, in realtà. Soprattutto se avete Trunks. Nel caso andate in doppio Veget, potete pensare a lui o a Bardak. Certo, lui fa molti più danni ed è il PG fisico che serviva, il Sealer che serviva. Quindi probabilmente diventerà staple anche in quello. Quindi ragazzi, io chiudo qua il video. Vi ringrazio nel seguito. Scusate se sono in condizioni disagiate. Ma purtroppo la vita è questa. Ci vediamo domani. Spero di star meglio, ma ho i miei dubbi. Per l'analisi dell'abbascio di Golden Freezer. Quindi in bocca al lupo coi pull. E a domani. 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 E a domani.